Un importante testo stampato nel 1795 e trafugato dalla biblioteca di Arezzo nel 1993 è stato recuperato dai carabinieri tutela del patrimonio culturale e riconsegnato alla biblioteca. L'indagine condotta dalla sezione antiquariato del reparto operativo dei carabinieri tutela del patrimonio culturale trae origine dal monitoraggio e controllo delle librerie della capitale. La presenza di segni distintivi e le porzioni di etichette di catalogazione individuati sul volume hanno destato i primi sospetti. Le meticolose ricerche hanno poi consentito di riconoscere il testo trafugato grazie alla presenza di un timbro che apparteneva alla Fraternita dei Laici, il cui patrimonio archivistico era confluito all'epoca nell'attuale biblioteca di Arezzo. L'opera completa è costituita da 13 tomi complessivi, quello riconsegnato dai carabinieri alla biblioteca era l'ultimo tornato finalmente al fondo di provenienza.